Dopo gli ingenti danni subiti dalla tromba d'aria che lo scorso 19 settembre ha colpito Firenze, l'orto botanico, sventrato e ferito nella sua alberatura secolare, è pronto per ripartire. Dopo le manifestazioni di affetto di molti fiorentini e i 3.200 euro raccolti in occasione della mostra del fiore e il giardino dell'orticoltura del 4 e 5 ottobre scorsi, l'orto si prepara ad un grande evento che servirà a riportare l'infa al prezioso e secolare complesso pesantemente ferito dall'eccezionale evento atmosferico, l'annuncio del curatore dell'orto botanico, dottor Paolo Luzzi. Il 13 dicembre di quest'anno, in relazione alle manifestazioni per aiutare l'orto botanico a una completa riorganizzazione e rinascita, sarà organizzata, a cura della Galleria d'Arte Xenon di Viale Petrarca, un'asta di beneficenza di oltre 50 artisti contemporanei che hanno donato le loro opere all'orto botanico e le presenteranno in quest'asta che sarà...